segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te io credo questa partita se non ci fosse l'ipocrisia della politica si concluderebbe con una grande alleanza con un partito unico quei signori che avete visto quelle persone che rappresentavano i partiti da dalla giorgia meloni a conte passano per fratoianni letta e tutti gli altri hanno votato tutti la stessa cosa cioè le sanzioni e la guerra l'invio delle armi che è un tema di politica estera chiaramente ma quella tipo di sanzione quel tipo di invio di armi ha determinato per il nostro paese e anche per l'europa il cambio di paradigma rispetto alle vicende dell'energia e quindi c'è una ricaduta immediata cominciamo a vederla e in autunno sarà molto più forte rispetto all'economia del paese ai temi sociali agli aumenti alle chiusure ai licenziamenti e quindi come dire draghi il suo compito lo ha svolto quella era l'agenda draghi l'italia è stata capofila in europa di questa scelta molto atlantista l'europa aveva una posizione diversa nel passato anche l'italia potevamo avere una posizione mediana adesso draghi dice ci saranno nuvole ci sarà una tempesta perfetta e il fatto che ormai queste scelte siano state prese è quasi irreversibile ci impegna sicuramente ed è per questo che io dico quando litigano tanto li vedete no tra di loro questi partiti seggile ma litigano perché sono uguali sui temi poi economici e sociali non c'è una grande differenza sui temi delle privatizzazioni le fanno sia letta che la meloni e quando sento il pd dire arriva alla destra ma ci hanno governato assieme i per non fattere insieme un antifascismo con questo però di fratto gli anni bonelli che sono leggermente diversi le anni bonelli li vedete sono terrorizzati non vedete le facce ma poi cioè adesso non voglio fare la fisiognomica ma sono terrorizzati guardate la faccia di fratto io lo conosco da è terrorizzato da cosa dal posto perché non sa dove se sta di là non lo prendono se sta di qua la discussione tutta ma vogliamo mettere la macchina la verità diciamo su per le narici per essere buoni di tutti questi personaggi ma sapete di cosa discutono ma discutono delle cose relative al paese stanno tutti a discutere dei seggi io sono un grande esperto ma lo sapete mi telefono volete che vi faccio i nomi di quelli che mi telefonano mi hanno detto mi ha messo in quel collegio lì va bene marco tu che sei capace mi dici è così ma questa è la verità un giorno li facciamo magari quindi non scherziamo vi sto dicendo da un punto di vista della politica esiste un partito unico che va che potevano entrare in parlamento sono state osteggiate nuove sono state totalmente osteggiate con una legge elettorale tostissima col fatto che si vota ma lo sapete noi stiamo raccogliendo le firme italia sovrana e popolare e nelle piazze per raccogliere ne dobbiamo raccogliere 50.000 nella prima settimana dopo ferragosto avete presente cosa vuol dire raccogliere le firme a ferragosto è un gruppo elettorale questo è chiaro no è una cosa dura noi ci siamo lo stesso perché il nostro problema è cambiare l'italia non entrare in parlamento cioè questo è il tema di il pesce puzza dalla testa e queste telefonate di cui parlava prima bianchini l'ha fatta anche lei oppure